Come si deve tenere sotto controllo la bilancia in base all'età? Partendo dai ragazzini, direi che fondamentalmente la bilancia è lo strumento forse meno utile. Quello che dobbiamo utilizzare di più è l'altimetro. Dobbiamo vedere se questi ragazzi crescono, perché l'indice di massa corporea è un rapporto tra peso e altezza al quadrato. Raggiunta la statura definitiva, dove il denominatore di questa frazione diventa una costante, allora potremo cominciare ad utilizzare la bilancia. La bilancia ricordiamoci che è uno strumento che pesa tutto il nostro corpo e il nostro corpo è fatto 60-70% di acqua. Per cui pesate, continuative e ripetitive non fanno altro che dirci quanta acqua c'è in più o in meno nel nostro organismo. Una pesata che ha senso viene fatta una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni, sempre considerando l'età adulta però.